E' partito ieri sera Back Off 2018, sesta edizione del Talent per aspiranti pasticceri Real Time condotto da Benedetta Parodi anche Real Time accende i riflettori sulla nuova stagione televisiva e lo fa con uno dei suoi programmi di punta Back Off 2018. Il programma per aspiranti pasticceri è condotto anche in questa sesta edizione da Benedetta Parodi e vede in giuria Ernst Kamm, Clelia Donofrio e Damiano Carrara. Le riprese del Talent si sono tenute nell'ormai iconico tendone, sito quest'anno nell'affascinante Villa Bagatti Valsecchi. Le selezioni Vincenzo Cesarano 44 anni di Castellammare di Stappia, trasferito a Latina.5 Daniele Compiani, 29 anni di Cremona.6 Federico De Flavis, 15 anni, da Lomazzoco.7 Cristina, 51 anni, da Vicenza 8 Yolanda, 21 anni, da Ottaviano Ona.9 Beatrice Canton, 32 anni, di Como.10 Samantha Fontana, 24 anni, da Faedo.11 Sara Groppelli, 20 anni, viene dall'Odizio Faccio Croco, 14 anni, da Faedo.11 Per fare, fede, 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 fede. Grazie a tutti.